Il codice della strada contiene anche norme specifiche per i ciclisti. Sulla strada dobbiamo fare attenzione prima di tutto alla segnaletica stradale. Approfondiremo successivamente con un video opposito all'argomento. Comunque distinguiamo una segnaletica verticale, tutti i cartelli che incontriamo disposti verticalmente sulla strada, una segnaletica orizzontale, tutte le linee, i segni che si possono vedere sulla carreggiata, una segnaletica luminosa, l'esempio lampante e il semaforo, una segnaletica manuale, quando gli agenti del traffico, i vigili, fanno delle segnalazioni specifiche. Utilizza le piste ciclabili quando la pista incrocia una strada. Fai molta attenzione ai veicoli che sopraggiungono da sinistra e da destra. In mancanza di piste ciclabili, scegli percorsi poco trafficati e con ampia carreggiata. Quando decidi di fare un giro in bicicletta, ricordati sempre di mantenere la destra della carreggiata. Se fai un giro con i tuoi amici, ricorda che non potete occupare tutta la carreggiata procedendo affiancati. Dovete disporvi in fila indiana. Ricorda che i marciapiedi servono per i pedoni. Anche nelle aree pedonali dove è previsto l'accesso alle bici, presta molta attenzione a chi ti sta intorno. Se necessario, scendi e prosegui con la bici in mano. Segnala per tempo con il braccio le tue svolte. In caso di svolta a sinistra, se il traffico è molto intenso, scendi dalla bici e attraversa la strada a piedi sulle strisce pedonali. Ricordati che i pedoni sulle strisce pedonali hanno sempre la precedenza. Usa sempre il casco, facendo attenzione che sia sempre allacciato e della giusta misura. I colori vivaci ne aumentano la visibilità. Per circolare nelle gallerie e dopo il tramonto, il codice della strada ti obbliga ad avere luce anteriore, bianca o gialla, luce posteriore, rossa, catari infrangenti, rossi e arancioni. Per attirare l'attenzione degli altri utenti della strada, usa il campanello. Ricorda che, se sei un buon ciclista, rispetti la segnaletica stradale. Utilizzi le piste ciclabili. Mantieni la destra della carreggiata. Usi il campanello. In gruppo procedi in fila indiana. Usi il casco. Quando c'è buio ti fai vedere. Non pedali sul marciapiede. Segnali per tempo con il braccio le tue svolte. Dai la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali. Grazie. Grazie.